Aggressione in un supermercato di Hamburgo in Germania. Un uomo armato di coltello ha ucciso una persona e ne ha ferite altre quattro. L'uomo che era riuscito a fuggire dopo l'attacco è stato poi fermato dalla polizia. Non sono ancora stati rilasciati dettagli sulla sua identità. Non è neppure chiaro il movente dell'aggressione avvenuta nel quartiere di Barmbeck. Non è stata confermata dalla polizia l'ipotesi del furto né quella dell'atto terroristico. Ma una tv privata tedesca riporta la notizia dell'apertura di un'indagine per terrorismo. Il sedicente Stato islamico nel 2016 ha rivendicato vari attacchi nel paese, tra cui quello contro un mercatino di Natale a Berlino che costò la vita a 12 persone.